Negli anni con gli utenti del CERT che sono ormai da molto tempo si instaurano dei rapporti comunque di confidenza. La maggior parte di loro dice fortunato è chi non l'ha mai usata, fortunato è chi non è mai entrato in questo mondo, proprio a dimostrazione qualche volta del desiderio di cambiare ma dell'impossibilità di farlo. Tutti quelli a cui ho fatto la domanda, adulti, perché? Perché ancora? Perché malgrado le sostanze non ti diano più la botta dell'inizio? Tutti rispondono nello stesso modo. Mi permette di affrontare la giornata con la sostanza o anche con il metadone. Dicono perché non mi fa pensare? Questa ragazza aveva grosse grosse difficoltà di staccarsi dalle sostanze, in questo caso dall'eroina e quando io le chiesi lei mi rispose perché a un inferno reale io preferisco un paradiso artificiale e questo è veramente secondo me l'emblema della complessità di questo fenomeno.